Dopo il pareggio nel derby dello stadio Adriatico Cornacchia, Elea Teramo torna tra le mura amiche perché domani pomeriggio arriverà l'Olbi. È una giornata particolare, nella mattinata presentazione del nuovo organigramma bianco-rosso e poi nel primissimo pomeriggio l'impegno contro la formazione sarda. Il pareggio però dell'Adriatico non è dimenticato, ovviamente il tecnico bianco-rosso Federico Guidi dice che quello è un risultato che ci deve dare, così come tanti altri, autostima per i prossimi impegni. È chiaro che queste sono prestazioni che ci devono aumentare la nostra autostima, la nostra consapevolezza e soprattutto ci deve dare fiducia per il proseguo del campionato. È chiaro che è sempre un pareggio, vale un punto, ma al cospetto avevamo una squadra che era costruita ed è costruita per fare un campionato di vertice e provare a vincere il campionato e ora questo entusiasmo lo dobbiamo riuscire a trasmetterlo e a riportare sul campo nelle prossime partite. Avversario ostico, l'Olbia di Canzi, che Guidi conosce molto bene. Sbaglia chi si aspetta una formazione, quella sarda che verrà al Bonolis a fare le barricate. Conosco benissimo l'allenatore. L'Olbia non verrà qua a fare una passeggiata, verrà qua a vendere cari la pelle. È una squadra che non molla mai, anche a Siena, nell'ultima partita, avete l'esempio chiaro. Sul 2-0 hanno ripreso la partita, sono andati sul 2-2, poi hanno perso nei minuti finali, ma in ogni partita è una squadra che non molla mai. Ha grande carattere, l'allenatore infonde questa grande sicurezza, questa grande capacità di rimanere attaccata alla partita nonostante i momenti di difficoltà. Domani è una partita difficile. Nel Teramo Out Bois non giocherà Perucchini, che per Guidi non è ancora pronto. Ballottaggio Agostino Tozzo in porta con il primo avvantaggiato sul secondo, così come in Mediana, dove Fiorani sembra favorito sul Lombardo per sostituire lo squalificato Federico Viero. Domani ci sarà la presentazione, ci sarà un bel clima di festa e un'atmosfera particolare allo stadio. Questo noi lo sappiamo, ma questo deve essere per noi motivo per dare e per fare qualcosa in più, non qualcosa in meno. La nostra testa, la nostra concentrazione, la nostra responsabilità è solamente orientata verso il campo. Noi dobbiamo, domani abbiamo una partita che è estremamente complicata contro un avversario difficile da affrontare e soprattutto una partita estremamente importante in chiave classifica.